altro ancora. Viene a trovarci presso una delle nostre sedi. Noi ci siamo. Cari amiche e cari amici, buon anno e bentornati alla nostra trasmissione Sportello Pensioni dei pensionati CISL del Piemonte. Anche nel 2019 vi faremo compagnia tutti i martedì e al mio fianco ci sarà sempre il nostro esperto di previdenza Giorgio Melelli che è già pronto anche questa sera a rispondere alle vostre telefonate da casa. Il numero da chiamare è sempre lo stesso 011 95 75 798. Come vi avevamo promesso cominciamo questa nuova stagione con una puntata interamente dedicata ai temi della previdenza in particolare a quelli relativi alla manovra finanziaria che è stata approvata a fine 2018 questa volta siamo proprio arrivati agli sgoccioli e che però possiamo già subito dire non soddisfa i sindacati. I sindacati dei pensionati sono già scesi in piazza nei giorni immediatamente dopo Natale e immediatamente dopo l'inizio dell'anno. Qui in Piemonte i presidi davanti alle prefetture sono stati il 3 e il 4 di gennaio e i pensionati hanno protestato perché? Perché in questa manovra finanziaria non è previsto il meccanismo per la rivalutazione delle pensioni che era stato invece concordato con il precedente governo nel famoso accordo del 2016. Ecco adesso Melelli ci illustrerà meglio i dettagli così capiamo qual è anche la conseguenza negativa? Rispetto alle pensioni abbiamo tante incertezze, 400, reddito di cittadinanza, riduzioni delle pensioni d'oro, tutti i problemi che sono ancora lì da consolidare con decreti, con carta scritta che lo stanno facendo in questo periodo. L'unica certezza è quello che diceva Stefania. Nel 2016 con il governo Gentiloni il CGL e Cisleuil hanno fatto un accordo che prevedeva l'aumento delle pensioni in base Istat e quest'anno è l'1,1 su tre fasce, una fino a tre volte il minimo, l'altra fascia da tre volte a cinque volte il minimo, l'altra fascia oltre cinque volte il minimo. Cosa voleva dire? Voleva dire che uno che prende 2.000 euro prende tutta la rivalutazione fino a tre volte il minimo, fino a 1.523. Da 1.523 a 2.000 prende il 90% e se fosse 2.500 per cui superasse 5 volte il minimo prenderebbe il 90% fino a 5 volte, oltre 5 volte il 75%. Questo tutti i pensionati, trattamenti minimi, non trattamenti minimi, pensione alte, pensione medie. Questo è stato fatto perché questo è il grave. Noi pensionati al primo di gennaio, al 3 di gennaio abbiamo preso la pensione con questi aumenti aumenti qua. Tre fasce, ogni fascia per tutti la rivalutazione. Ovviamente questo calcolo ha dato una certa cifra che ognuno di voi a casa lo può fare. 1,1, 90% da 3 a 5. Cosa è successo? che col decreto il governo gialloverde ha detto no, cari pensionati prendete troppo, dobbiamo togliervi dei quattrini e ci hanno tolto dei quattrini che ce ne toglieranno effettivamente febbraio, marzo, non sappiamo ancora. Cosa ha fatto il governo? Il governo ha fatto sette fasce, tre volte da 3 a 4, da 4 a 5, da 5 a 6, da 6 a 7, da 7 a 8 e oltre 8. Però non ha fatto per scomparti, ma uno che ha 2.000 euro prende il 70% su tutta la pensione, per cui perde la rivalutazione piena fino a tre volte il minimo, per cui è una perdita. E c'è anche un problema di equità. Esatto, io volevo fare una battuta, il primo ministro Conte ha detto ma cosa vi lamentate? Cercate la carità? Ha detto la parola carità, è un problema di principio, non è un problema di carità. Ma che nessuno si accoggerebbe di pochino. Ma non è un problema di carità, è un problema di principio. Quando noi pensionati mettiamo lo striscione, le pensioni non sono il bancomat. Non è che siamo innamorati del bancomat, è che noi comprendiamo che tutti i governi in qualunque momento del mondo, quando hanno bisogno di soldi pescano dalle tasche dei pensionati. Allora, ci siamo lamentati con Renzi, ci siamo lamentati con gentiloni, mi sembra corretto lamentarci anche col governo Conte, perché la parità è questa. Nessuno ha dato soldi ai pensionati. Abbiamo le pensioni, e poi finisco, abbiamo le pensioni che oramai hanno un livello di capacità di acquisire beni molto basso, oggi abbiamo le pensioni che una volta erano considerate alte, e parlo del 1500-16 puliti, che oggi sono medio basse, per cui si è perso tutto il potere d'acquisto. Mi sembra giusto, come diceva Stefania, che CGL e Cisleville siano in, e ovviamente che ci chiamino a reclamare i nostri diritti in piazza per farci sentire. Ecco, infatti, perché i sindacati dei pensionati sono già scesi in piazza con questi presidi davanti alle prefetture, ma la segretaria generale della Cisle, Anna Maria Furlan, ha già annunciato che entro la fine del mese anche le tre confederazioni organizzeranno una grande manifestazione, quindi coinvolgeranno tutte le categorie dei lavoratori. Adesso diamo la linea al nostro telespettatore, perché abbiamo già una telefonata. Pronto? Pronto, auguri, buon anno è tutto. Grazie signora, buonasera, da dove ci chiama? Io chiamo da Giaveno. Tanti auguri di buon anno anche a lei, ci dica pure. Senti, io c'ho di più di una domanda, perché a un anno che mi sono rotti il tema non ho potuto collaborare con voi. Senti, la prima cosa gli dico è che mio marito non ci hanno dato la quattordicesima. Ecco, sono andata a riclamare e ho rifatto tutto da capo. Ah, hanno rifatto la domanda? Sì, perché io ho caduto e mi trovavo all'ospedale e non sapevo di fare il reddy. Ecco, quest'anno a me non mi è arrivati niente, che ogni anno arrivano se sono stata ricoverata o no. No, no, ho capito, ho capito. Ha capito? Ah, sì, volevo parlare. E se il mio marito deve fare il reddy, perché per ora sono male, ti sono caduto e non posso andare appagionato. Allora, intanto signora, volevo parlarne dopo, ne parlo già adesso. Sì. Il modello red, bisogna farlo entro il 31 marzo. Quando io parlo di modello red, parlo anche dei modelli di cui lei mi parlava, dove bisogna comunicare se uno è stato ricoverato in ospedale. Sì, 2018 sono stato ricoverato. Anche questo, per cui lei deve aspettare la lettera dall'Inns. Il pazionato mi ha detto che non me la danno, telefonicamente però, perché io ho detto quando ti ho vedo. Allora, io domani ho un corso di formazione dove vado ancora a imparare, perché non sappiamo ancora tutto sui modelli reddy. Ma se non sbaglio, l'Inns per quelle lì le manda la lettera. Sì, me l'ha sempre mandata a me. Esatto. Allora, rimaniamo che la signora deve aspettare la comunicazione dell'Inns. Se ci fosse qualche indicazione diversa. E quello di mio marito, se devo farlo a lui. No, il reddy suo marito deve andare al CAF. Sì. Loro devono vedere se nel programma dell'Inns c'è la famosa stringa a nome di suo marito. Ah, ecco. Per cui suo marito non lo riceve. Ah, ecco, va bene. Su marito deve andare, però lei dovrebbe riceverlo. Sì, sì, va bene. Allora, verso fine internaio ci vado, va bene? Perfetto. Grazie. Grazie, signora. Buonasera. Buonasera. Ecco, benissimo. Ah, abbiamo già un'altra telefonata in linea, quindi sentiamo subito il prossimo telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Auguri di buon anno a tutti. Buonasera, signora. Auguri anche a lei. Teigo, ci dica. Volevo chiedere a signora Meleli, se mi sa dire qualcosa, per quanto riguarda i lavori notturni, la circolare numero 126 del 28 dicembre, che parla di 30 anni di contributi e mi sembra 62-63 anni di anzianità. Allora, però volevo sapere, i lavori notturni sono a fasce. Sì. Se non ricordo male, adesso a memoria, se uno ha 70 giornate di lavoro notturni è una quota, se uno ne ha 65 è un'altra quota, se uno ne ha 60 è un'altra quota. Però io, l'unica cosa che le posso dire è, le norme sul lavoro notturno ci sono ancora. Niente, perché mio marito... Non è che le hanno tolte, eh? Ecco, perché mio marito invece è disoccupato dal 2008, ma ha fatto gli ultimi dieci anni di lavoro notturno. Scusi, 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 da quando è disoccupato? Eh, dal 2008. Il suo marito non può, no, 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 il suo marito non può attingere i lavori usuranti. Ah, perché? Perché no, quando noi parliamo gli ultimi dieci anni, parliamo da adesso indietro. Ah, ecco, ecco. Non gli ultimi dieci anni di lavoro. Non posso andare a prenderli da Adamo e Deva. Ah, no, no, pensavo. Devo prendere gli ultimi dieci anni o gli ultimi sette continuativi prima della pensione. Ah, in caso lui lavorassi ancora. Eh, no, ho capito. Eh, certo. Ah, ecco, ecco. Ma quanti anni ha il suo marito? Eh, ne ha solo 60. Ha solo 35 anni di contributi. È giovane. È giovane e purtroppo ha pochi contributi. Eh, appunto. No, perché appunto ha fatto anche il lavoro notturno. Io pensavo che con... No, no, no. Niente, e quindi deve aspettare... Purtroppo deve aspettare, vediamo le nuove leggi, cosa ci dicono, e poi si deciderà. Ah, ho capito. Va bene. Grazie mille. Buonasera. Grazie a lei signora, buonasera. Ecco, quindi abbiamo dato questa prima notizia sulla rivalutazione delle pensioni, che non è una buona notizia. Io volevo, se posso, eh, volevo, visto che siamo tutti in attesa, non solo noi addetti ai lavori, ma i lavoratori, quelli che lavorano in fabbrica e negli uffici, della famosa quota 100. Allora, la quota 100 dovrebbe... Io ho ancora letto alcuni articoli sul Sole 24 Ore, che è un giornale tecnicamente da apprezzare. Poi anche loro, come noi, viaggiano un po' per sentito dire. Loro, fra l'altro, hanno agganci in Parlamento, ma se parli con un onorevole ti dice una cosa, se ne parli con un altro non dice un'altra. Allora, 62 e 38, e si va in pensione. Intanto non si va in pensione subito, perché sembrerebbe che in questo decreto riescano le finestre di tre mesi. Addirittura oggi, su un foglio che ho qua, c'è qualche giornalista che parla di sei mesi, per cui se io il diritto lo maturo a marzo 2019, vado a ottobre, perché devo fare i famosi sei mesi. Se invece devo farne tre, andrò a luglio. Per cui questa è la prima novità, che sembrava essere stata tolta, invece pare... Ritorna. E ritorna. Dopodiché non sappiamo i signori che hanno 63 anni e 40 anni di contributi. Si possono comunque soffrirne o meno. Il 62 e 38 è il minimale? Dopodiché tutti i soggetti che hanno età e contributi superiori possono accedere? Io, personale, solo mio, io direi di sì, perché 62 e 38... Dovrebbe essere il requisito minimo. Il requisito minimo per poter accedere alla pensione. Ma ho un dubbio. Se 62 e 38 ha tre mesi o sei mesi di finestra, se io ho 64 e 43 e 42... Devo anch'io aspettare la finestra? ...sei mesi o un anno? Ah, certo. Cioè, visto che io prenderò più di pensione, perché è ovviamente un inciso, perché chi va con quota 100 prende meno di pensione? Perché paga meno contributi. Se quota 100 non ci fosse, i lavoratori andrebbero in pensione con 43 anni e tre mesi. 43 anni sono di più di 38. Ci sono cinque anni e un pezzo di contributi versati in più, per cui è ovvio che la contribuzione è più alta. Anche perché l'ultimo pezzo è un pezzo esclusivamente contributivo. Per cui sappiamo che le percentuali del valore contributivo non sono alte, sono basse. A questo proposito mi viene un'altra domanda. Si potrà comunque continuare ad andare in pensione con la legge Fornero? Ma io direi proprio di sì. Siamo sempre qua. Se 62 e 38 è il minimale, a maggior ragione, la legge Fornero mi obbligava ad andare 42 e tre mesi, 43 e tre mesi per uomini e donne. Se io arrivo lì, perché non voglio avere una pensione declassata economicamente, posso sicuramente accedere alla pensione con le vecchie regole. Come? Prendo la palla al balzo. Come, secondo me, continua a essere, almeno per il 2019, applicabile l'Ape Social. Ah sì, certo, questo l'ho letto anche io. Speriamo che venga confermato. Il problema è che l'Ape Social è quella norma che prevede una riduzione di contribuzione, un pezzo 30 e un pezzo 36, per cui è ancora inferiore ai 38, per cui è migliorativa rispetto alla contribuzione. Però bisogna rientrare in quelle categorie. Però è peggiorativa con l'età, perché mentre il 100 è il 62, l'Ape Social è il 63. E poi dobbiamo essere o disoccupati, o avere delle persone a carico, oppure lavorare in quelle 15 categorie, che è sempre l'accordo 2016, tra CGL, Cislewil e il governo Gentiloni. Per cui, diciamo che il sindacato, il Melelli, in primis, che non è il sindacato, faccio parte del sindacato, Io a quota 100 l'accetto, perché noi abbiamo sempre chiesto la flessibilità, dare alle persone l'opportunità di andare in pensione, come credono, sapendo quello che verranno a prendere economicamente, dopodiché io decido di stare a casa, come un'altra e poi vedremo che magari... Benissimo, adesso abbiamo però una telefonata in linea, quindi sentiamo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama, signora? Chiamo da Torino. Prego, ci dica. Volevo chiedere gentilmente al signor Melelli, se il reddito complessivo per avere diritto agli assedi familiari considera il reddito dell'abitazione principale oppure lo esclude? Della abitazione principale? Abitazione principale. No, no, la include. Ah, la include. È l'unica, è l'unica prestazione che bisogna mettere la casa di abitazione. Conta anche la casa, sì. Sì, sì. Ho capito, va benissimo, la ringrazio. Chiedo, buonasera signora. Grazie signora, continui a seguirci. Abbiamo subito un altro telespettatore in linea. Pronto? 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 Ah, eccoci. Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera e tante belle cose, anche alla signora Francesca, che l'abbiamo vista all'eredità. Brava, brava, è stata molto brava. Grazie, grazie mille signora. Complimenti, complimenti. Prego, ci faccia pure la sua domanda. Molto brava, brava. Allora, sì, è questa. Visto il piccolo momento che ti hanno dato le nostre pensioni, la mia e quella di mio marito, ci toglieranno anche quel poco che ci hanno dato? No, dunque, toglie, no. Allora, in Italia non si toglie niente. Fra l'altro, io volevo fare due battute, ma sarei troppo polemico sulle pensioni d'oro, su quelle che superano i 100 mila euro, eccetera. Ma, semmai in chiusura la facciamo se abbiamo tempo. Non cancellano mai niente. Il problema dell'Italia è che bloccano. Il problema vero, io non ho paura che mi tolgano la pensione, ma io ho paura che continuando a bloccarmela, la mia pensione vale la metà della metà di quello che valeva quando sono andato in pensione. Questo è il problema vero, perché no, in Italia non si può, se si toccassero le pensioni, proprio tagliando le pensioni, sarebbe un dramma indicibile, nel senso che succederebbe il finimondo. Però il problema dell'Italia è che romai è dal 2011 che ci bloccano le pensioni. Questo è il problema vero. La rivalutazione è... Per cui dorma tranquilla per la pensione, però... Non abbiamo grandi aumenti, ecco. Eh no, assolutamente, l'1,1... Non aumenti, però quello che ci hanno dato adesso a gennaio continueranno a dare. No, no, l'ho detto prima. Forse non ha seguito la puntata dall'inizio. A gennaio ci hanno dato la perequazione automatica riferita all'accordo di CGL e CISD e Wilco con il governo Gentiloni. Nel 2016. Adesso però il governo giallo-verde ce li toglie. Ce ne dà meno. Ecco. Perché ha fatto un decreto, una legge, che invece di tre scaglioni ne fa sette, e per cui ci riducono l'aumento della pensione. Io non voglio fare polemiche, perché non l'abbiamo mai fatto contro nessun governo, però davvero è grave il fatto che ci tolgano dei soldi. No, per carità. La ringraziamo signora. Buonasera. No, capito. Continui a seguirci. Ecco allora, un'altra domanda per chiudere questa parte che riguarda in particolare le norme per andare in pensioni. L'opzione donna, che fine ha fatto? E' quello che volevo parlare. Perché? Perché è un'altra norma che va nella direzione della flessibilità. Nei nostri, come posso dire, i nostri studi, le nostre considerazioni che abbiamo dato al governo come CGL e CISD e Wilco, c'è. C'era prima, c'è adesso e ci sarà anche domani, qualora servisse, la richiesta dell'inserimento dell'opzione donna. Perché voi sapete perché è nata l'opzione donna. Perché alcune donne arrivate a 57 anni sono magari nonne, hanno magari i genitori che non stanno bene, che hanno dei problemi. Ci sono condizioni familiari non ottimali che prevedono che la donna faccia i salti mortali, lavorare a casa, magari di notte perché il genitore non sta bene, oppure devono spendere i soldi per la badante, per cui tutta una situazione della famiglia non ottimale. Allora, giustamente abbiamo detto, ok, mandiamoli in pensione, a 57 anni, almeno con 35 anni di contributi, gli diamo la pensione contributiva perché ovviamente la prendono 10 anni prima. Per cui è un vantaggio non indifferente, però gli conteggiamo la pensione col metodo contributivo più basso, per cui meno costoso da parte dello Stato e dell'Inps e così la persona può tranquillamente curarsi la sua famiglia. È stata tolta per tre anni, mi pare, perché più nessuno aveva inserito l'opzione donna, adesso l'hanno reinserita, però ci sono dei numeri che non capisco. addirittura c'è, dice, potranno andare in pensione con quello anche quelle nate nel 69, no nel 59. 59 vuol dire 59 anni, cosa vuol dire allora? vuol dire che anche qui... In realtà 60 nel 2019. Vuol dire che qui apriamo anche qua? Sì. E poi la domanda è questa. Quando bisogna aver maturato i requisiti? Ne parlavamo io e te prima della trasmissione. Bisogna averli oggi o bisogna averli nel 2008, nel 2007, nel 2006, non si sa. Si sa solo che 58 anni, 57 dipendenti, 58 le autonome, e poi han tirato fuori questo 59, che non capisco bene cosa vuol dire. Per cui siamo contenti che vedano l'opportunità di rimettere in piedi l'opzione donna. Per inserire questa opportunità. Speriamo che sia difficile, però strutturale, non che tutti gli anni bisogna... Reinserirla o... Che diventa la fine del mondo, e dopodiché credo che faremo un bel servizio non solo alle donne, ma anche alle famiglie, perché io so di molte persone che domani mattina andrebbero a casa e eviterebbero di pagare badanti, di avere dei problemi con gli asili nido dei nipoti, eccetera, eccetera. Bene, ritorniamo a parlare fra poco delle famiglie, perché ci sono delle novità che riguardano anche questo tema. Adesso però abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Mi chiamo La Santena, mi chiamo Giovanni, Burka Giovanni. Sì, ci dica pure. Allora, volevo chiedere, io ho 809 euro di pensione al mese, sono invalido, 97%, la pensione di validità me l'han tolta, ma io non sono di quegli invalidi finti che vanno per la strada e rubano i soldi. Volevo chiedere come mai 809 euro con mia moglie che prende 10 euro e 27 centesimi al mese di assegni familiari, mi hanno tolto la pensione di invalidità. Solo quello volevo, non voglio niente altro. Quanti anni ha? Eh, guardi, ne ho 79. Allora. Anzi, scusi, come scusa, prima che ho cominciato a parlare, io sono andato all'Inx e per sentirmi dire lei è vecchio, su un mio via più rava. Bom, basta. Too long. Candida più rara. No, il problema è che io non voglio commentare la battuta che gli ha fatto il funzionario Inx, perché con una persona che si rivolge allo sportello, se un mio collega o se il sottoscritto dicesse una roba del genere, mi butto nel tanaro perché non è possibile. Cioè, è mancanza di sensibilità. A parte questo. Però, lui l'ha detta così, io glielo dico in un altro modo. Tutti quelli che hanno l'invalidità sopra il 75% e superano i 65 anni, hanno diritto alla pensione se non superano 4.853 euro all'anno. Ah, no, 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 no. Lei, avendo 800 e 8 puliti, per cui sarà oltre 900 lordi, arriva agli 11.000-12.000 euro l'anno, non è perché è vecchio, ma perché il suo reddito gli impedisce di prendere l'invalidità civile. Non perché è vecchio, ci mancherebbe. No, no, ma mi sono vecchio, per carità. È una questione di reddito. Ma siamo tutti vecchi, cosa vuol dire? No, no, ho capito. No, no, nel senso che purtroppo è così. Un'altra domanda, un'altra domanda, ormai a me la pensione non la danno più. Volevo sentire, per la pensione di vecchiaia, mia moglie, a 5 anni e più, quasi 10 di Marchette, e 74 anni, la potrebbe prenderle? Io l'avevo sentito partire. No. No. Perché sua moglie ha pagato i contributi prima del 92. No, no, per carità. Perché il problema è, con il sistema contributivo, se la moglie avesse 10 anni dopo il 96, allora sì, ma avendo dei contributi prima del 92 non ha diritto. Ah, capito. Capito. Quei contributi lì non servono a niente. Ci spiace. Va bene, allora mi riesco piena di niente, neanche qualche aumento, qualcosa, niente. No, 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 purtroppo no. Va bene. Ci dispiace. La salutiamo e la ringraziamo. Continui a seguirci. Buonasera. Va bene. E il tavolo chiuso se è disturbato. Buonasera. Abbiamo già in linea un'altra telefonata. Le chiedo scusa, ma abbiamo tante domande, essendo poi la prima puntata dell'anno, capisco che i nostri telespettatori vogliono parlare con me, Lelli. Sentiamo. Pronto? È pronto. Buonasera. Buonasera, signora. Volevo sapere una cosa. Io ho fatto 31 anni di Fiat e prendo 1200 euro di pensione. L'ho capito. Però questo mese... Ha fatto 31 anni? Di Fiat e prendo 1200 euro di pensione. Questo mese mi sono trovata 13 euro in più, ma adesso me li tolgono oppure me li lasciano? Sì, me li tolgono. Non tutti. Non tutti, eh? Ah, ecco. Che gli tolgono solo la differenza tra la legge che hanno applicato, quella vecchia del 2016, e la legge nuova che hanno fatto il governo giallo-verde, con la finanziaria. Per cui ce lo tolgono, e lo tolgono anche a me, ce li tolgono perché loro hanno applicato un altro metodo di calcolo. Però non è una valanga di euro, però qualche euro ce lo tolgono. Ma più o meno quanto si possono togliere? Dovevi fargli il calcolo, signora. Oh, madonna. Eh, ma facciamo... Ma prima ce li danno e poi ce li tolgono. Eh, signora. Ogni governo ha un suo metodo. Eh, ma cioè, 1200 euro non è che si va a tanto lontano come le 300 euro. Eh, ha ragione, ha ragione, ha ragione. Ma è uno schifo comunque. Si dovrebbero scendere in piazza, si dovrebbe scendere. Sicuramente i sindacati lo faranno. La ringraziamo, signora. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera. Certo, vi terremo aggiornati poi di quando sarà questa grande manifestazione nazionale. Torniamo però a parlare della famiglia, perché forse qua invece qualche buona notizia possiamo darla. Sì, qualche cosa c'è stato. Beh, intanto diciamo che questo pezzo qua non tanti l'hanno usato, che è il congedo parentale per i papà. Cioè, quando la moglie sta a casa perché ha avuto un bimbo, il papà aveva diritto a due giorni, tre giorni. Tre giorni, mi pare. Adesso sale a cinque giorni la possibilità di stare a casa per il papà, pagati ovviamente, in aiuto e sostegno della mamma. Cioè la mamma non sta bene. Nel momento della nascita, certo. Anche qui l'unica cosa che non sappiamo è quanto tempo prima io devo dire al datore di lavoro che chiedo l'applicazione del congedo parentale. Perché se mia moglie stanotte si sente male, domani mattina non riesce ad alzarsi, il bambino è lì da sistemare, cosa faccio? Certo. Ho la possibilità di stare a casa telefonando dicendo prendo un congedo o no? Questo ce lo devono dire quei famosi decreti di cui si parlava prima. Che se poi vuoi alla fine dirlo eccetera. Sì, certo, poi vediamo. Sì, poi c'è l'opzione, la famosa opzione, qualcuno dice che non è d'accordo, io sono d'accordo, quella che la mamma, la materna può lavorare fino al nonno mese. Ah sì, ha creato un sconfiggio. Perché sono d'accordo? Perché ci sono dei lavori non bravosi. Certo, dipende sia dal tipo di lavoro sia anche dalle condizioni. Sia dal tipo anche di gestazione. Certo. Cioè se uno sta bene o non sta male. Capisco però anche la critica perché voglio dire la maternità è stata una conquista. Però è un'opzione. Certo. Io i cinque mesi li prendo dopo. Io i cinque mesi li prendo dopo. Certo, certo. Per cui cinque più sei di facoltativa arriviamo cosa un anno. Si allunga di più. Questo però è chiaro che deve essere, qui i medici, i ginecologi devono fare molta attenzione, devono usare questa opportunità con sale. Certo, con il massimo del rigore. Certo. Allora, poi c'è un bonus nido che è aumentato da 1000 euro a 1500 all'anno. Questo qui, io ho il cane a casa per cui lo dico. Ci sono degli sconti fiscali per i cani guida. Per cui i cani che è a sostegno dei non vedenti. Poi c'è una carta famiglia solo per italiani, che è una specie di social card di una volta, dove sembrerebbe che vengano caricati dei denari che diano la possibilità di comprare solo alimentari e roba del genere. Però anche qui bisogna sempre aspettare quello che tu poi spiegherai. Il famoso decreto che dovrebbe mettere insieme tutti i decreti applicativi per queste norme che sta illustrando Melelli. Perché l'abbiamo detto già mille volte quando voi mi chiedete, ma la legge è uscita. La legge non basta. La legge dà le linee guida. Ci vogliono però i decreti attuativi. I ministeri preposti devono fare le circolari e dire all'Inps comportati così, a Stefania di dirgli comportati così. Cioè ognuno deve sapere come comportarsi rispetto alle linee guida della legge, ma aiutate dalle circolari, si chiamano circolari interpretative. Perché devono interpretare la legge e dare, come posso dire, gli strumenti per applicarla. Benissimo, abbiamo ancora una telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Alba. Sì, prego, ci dica. Buonasera, io mi chiamo Savino, sono un anno in pensione e volevo chiedere lì al signore della CISL. Sì. Ecco, l'orientamento di questo governo riguarda il TFR, considerato che già ci hanno mangiato più di qualunque cosa. Allora, qui la vecchia normativa non è cambiata, io ce l'ho qua, che riguarda i pubblici dipendenti. Io ce l'ho qua, tanto per, eccolo qua, è quello che se uno ci vuole un po' di anni, eccolo qua, pensione vecchiaia 105 giorni, per chi matura i requisiti prima del 9 mesi, quindi c'è pensione in sanità 9 mesi, poi andiamo. Sì, ma c'è una conoscenza. Quello lo conosce. Qual è il problema vero? Qual è il problema vero? Non è il problema vero. Il problema vero riguarda la quota 100. Ecco. Perché i giornalisti ci informano che chi chiederà l'applicazione della quota 100, il TFR o il TFS, il trattamento di fine rapporti e di fine servizio, o il cittadino chiede un prestito bancario. Però qui i giornalisti mi dicono che il governo deve fare un accordo con l'ABI, le banche d'Italia, per avere questo qui. Altrimenti, se questo non avvenisse, la liquidazione verrebbe pagata, tra virgolette, e tanti punti interrogativi, all'atto del compimento dell'età della vecchiaia. Ok, quando uno è morto? No, no, 67 no, non si muore 67. No, devo chiedere, ma per chi è già in pensione... Ma lei lo sta aspettando ancora? No, io già sono un anno in pensione, devo aspettare i due anni oppure i tre anni. No, ma il problema è che il suo TFR l'ha già preso? No, purtroppo mi si è dovuto agganciare una banca che è un tasso di ore su Rai, perché mi servivano. Allora, la vecchia legge, quella che hanno applicato nel suo caso specifico, non è cambiata. Per cui rimane quello che aveva prima. Ne rimangono quei termini. Ho capito. Non c'è modifiche in positivo. Va bene. Il vecchio è vecchio, adesso ne farà uno nuovo. Ma spero che i sindacati almeno ci diano delle belle notizie con la Costituzione. Allora, noi su questa roba qui siamo decisamente contrari, perché noi sappiamo quanto sia utile il TFR ad una famiglia per un pensionato che va in pensione e questi quattro soldi in più servono per molte cose. Ma sono soldi, sono soldi nostri. Eh, lo so, lo so, lo so. Siamo noi, sì, accantonati. Sono stati accantonati durante gli anni lavorativi. Ma spero che non sentiamo come i giletti gialli, come in Francia, ma glielo auguro a loro. Ma comunque, mi scusi se mi permesso, non voglio entrare in polemica con lei. No. Ma un po' i sindacati confederali su questa questore qui dovevano puntare i piedi. Ci hanno trascato, penso che i delinquenti hanno i statali. Le spiego. Vuole una mia idea, io non faccio... Ma la chiamiamo a governo. I ladri ce la chiamiamo a governo. Tra l'altro c'è anche qualche problema con l'audio, quindi sentiamo la domanda di Melelli. Intanto noi la salutiamo e la ringraziamo per essere intervenuto. Secondo me non sono i confederali che devono fare il can-can. Sono le categorie. Allora, la categoria del pubblico impiego, che prende la liquiazione dopo due anni e mezzo, sono loro che devono ribellarsi. In primis. E questo è il problema. La categoria, poi la confederazione, CGL, CISDW, ci può stare e ci starà sicuramente, ma è la categoria che deve reagire. Perché se non la fa la categoria è come quando fanno i contratti metallo-meccanici. Sono loro che fanno tutte le lotte. Poi qualcuno li aiuta anche. Sono d'accordo con Melelli. Con voi anche. Abbiamo ancora una telefonata e pochi minuti, quindi darei spazio al prossimo telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera signora. Sono Anna da Torino. Sì, prego, ci dica. Buonasera. Senta, io volevo sapere dal signor Melelli, io ho 20 anni di contributi e 64 anni. No, 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 eh, ma ce l'ha la pensione? No, non ancora. Ma come no? Ma come va a non averla? Eh, non me l'hanno data perché con la legge Fornero... Ma no, ma signora, ma vogliamo mica... Allora, la Fornero avrà tante colpe, ma la pensione di vecchiaia mica l'ha tolta. Sì, ma avevano detto che la dovevo prendere a 67 anni. Ma se lei ne ha 70 fischiare... No, io ho 64 anni. Scusi, abbiamo problemi di audio. No, allora, no, no, il problema è che deve aspettare 67. Ah, ecco, devo aspettare 67... No, perché ho sentito prima la domanda di quell'altro signore che dicevano dei 5 anni, prima del 92... Ah, no, no, quella roba lì è un altro discorso. Però lei avendo 20 anni il diritto ce l'ha, ma lo può solo, come posso dire, prendere quando compie 67 anni. Ah, i 67 anni. Sì. Purtroppo è così. Ah, il requisito dei contributi, ma le manca quello dell'età, quindi deve aspettare il compimento di 67 anni. No, perché mi ero un po' spaventata, perché ho detto come adesso non la prenderò più. No, no, non avevamo capito bene. Avevamo capito 77 questo problema. Ho capito, ho capito. La ringrazio molto. Grazie a lei, signora. Buonasera. Abbiamo ancora una telefonata, velocissimi, perché abbiamo un paio di minuti prima di chiudere. Pronto? È pronto. Buonasera, signora. Da dove chiama? È provincia di Torino, ci viene. Prego, ci dica. Io ho un grande problema che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Ho la mia mamma, ultra novantenne, invalida al 100%, abbiamo fatto la nostra domanda e c'è stato negato l'accompagnamento. Sì, negato. Dove possiamo parare? Abbiamo fatto tutto, noi l'aggravamento è tutto, ma non ci hanno ancora detto niente. La visita, signora, l'avete fatta? La visita, abbiamo fatto le visite tutte intramegne, è venuto il medico fiscale a vedere la mamma a casa perché non deambula. Quando? È venuto un paio di mesi fa, buoni. Eh, male. Tenga conto, signora, che lei è a cavallo delle feste. E sarà venuto a un novembre, sono più o meno tre mesi. Purtroppo c'è stato anche questa interruzione. Secondo me, guardi, entro fine mese riceve la raccomandata. Va bene. Perché poi dopo la raccomandata bisogna fare ancora, bisogna mandare via un modello, la P70, per chiedere i quattrini. Ok, comunque, infatti, perché noi aspettavamo e dico... No, il problema è che, tenga conto che da metà dicembre a metà gennaio o quasi, sono in forza minima. Ok. Perché ovviamente anche loro hanno diritto a fare un po' di ferie, un po' di ricorso, eccetera. Per carità, no, no, no. Per cui secondo me, entro gennaio la riceve. La mamma invalida al 100%, senza diritto all'accompagnamento, noi eravamo rimasti così, un po' basiti. Allora, no, no, guardi che io gli avrei risposto che è abbastanza normale. Ah, ah. Perché, attenzione, il problema è, abbiamo un minuto, un secondo. Sì? È la deambulazione che conta. Se io cammino col girello, non me lo danno? No, ma a me non deambula. Adesso? Ma quando gliel'hanno legata? Sì, pochino, pochino, pochissimo. Eh, vede? Non è l'età, non è l'età che incide, ma è la deambulazione. Ho capito, la ringrazio. Sì, va bene, signora. Grazie a lei, signora, tanti auguri. Buonasera. Ecco, abbiamo ancora un minuto prima del termine della trasmissione, non so se riusciamo ancora a dare qualche informazione, ci sono delle novità che riguardano anche il terzo settore. Sì, però qui non mi vorrei sbilanciare, perché qui parte tutto dalla tassazione. Vi ricordate le polemiche che c'è stato, il terzo settore no profit, qualcuno voleva aumentare la tassazione dal 12 al 24%, questa roba qui sembra superata, però quando si scrivono le circolari, come si diceva prima. Ci può succedere di tutto. Vi ricordate il problema della manina? La manina che non si sa perché aveva scritto una cosa che non era stata concordata. A volte succede che nelle circolari interpretative questa manina esce e fa degli scarabocchi, che poi vengono interpretati così. Speriamo di no, speriamo che continuino ad avere la tassazione vecchia del 12%, poi vediamo. Qualunque cosa succederà siamo qua pronti a lamentarsi e, come diceva Stefania, a fare eventualmente anche manifestazioni nazionali. Ecco, infatti vedremo quando arriverà questo famoso decreto attuativo, noi comunque continueremo a mantenere l'attenzione alta su questi temi. La settimana prossima ci occuperemo di un altro argomento perché anche quest'anno la FNP sostiene l'AISB, che è l'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, nella sua campagna sui lasciti testamentari, quindi avremo ospiti loro la settimana prossima, ma poi la settimana successiva sarà con noi la segretaria generale dei pensionati CIS del Piemonte Rosina Partelli e quindi avremo modo di ritornare su questi temi. Per questa sera però il nostro tempo è esaurito, quindi ringrazio Melelli per aver risposto alle vostre domande e ringrazio voi che ci avete seguito da casa. Buona serata!